buonasera ben trovati in questo secondo spazio di telebari social night buonasera andrea che bello riaverti con noi con fabio mi avete reintrodotto nella mia trasmissione ma sulle amministrative tu sulla politica sia di giuno sto frequentando una scuola serale sull'argomento mi sto preparando preoccupante e preoccupante diciamoci a preoccupare allora vi sfido sui duetti di sanremo e vi voglio vedere siete preparati ognuno le proprie competenze assolutamente telebari insomma vive di competenze buonasera dottoressa gaia costantino presidente di woman co fondatrice di women lead puglia women lead hai visto abbiamo sbagliato tutti e due dai 50 e 50 co fondatrice allora spieghiamo alla gente che cos'è diciamo questa società anche perché insomma ne avete fatto di strada e state facendo tanto parlare di di voi sì allora pulire me lead è nata meno di due anni fa e devo dire che abbiamo avuto veramente un riscontro dal territorio che non ci aspettavamo importante sì partendo dalla tematica di ritrovare delle persone che condividessero gli stessi valori sul territorio ma soprattutto che puntassero sul digitale per colmare di vario di genere occupazionale che che abbiamo in puglia e quindi siamo partite facendo appunto rete con persone che erano rimaste o tornate nella nostra puglia quindi professionisti e professioniste studenti studentesse che avevano voglia di trovare un luogo appunto di inclusione in cui poter condividere una serie di valori e poi soprattutto formarsi per poter avere la scelta di rimanere o andare via da qui ci aspetta una bellissima chiacchierata da fare insieme dopo le rvm continua vediamolo insieme oggi stiamo facendo la storia della nostra regione siete delle pioniere siete donne coraggiose che hanno il coraggio di sfidare lo status quo di mettersi in gioco o l'onore e l'immenso piacere di darvi il benvenuto al primo coding bootcamp al femminile mai realizzato in figlia benvenute e benvenuti a Puglia Women Co. Noi crediamo che lavorare in team non sia soltanto portarsi a casa un risultato tecnico noi abbiamo in questo momento una sfida non indifferente come territorio. Oggi di fatto la Puglia è la California italiana. Le risorse servono le posizioni di lavoro ci sono sono aperte sono agli occhi di tutti. Si prende in mano il proprio futuro e lo si porta esattamente dove lo si vuole portare. Questo è Puglia Women League. Puglia Women League. Voi fate dei corsi di formazione questo 2023 diciamo come è stato per voi e soprattutto quali sono i progetti per il 2024? Allora sì noi ci occupiamo di formazione partecipata direi nel senso che facciamo sia un evento al mese di formazione su tematiche legate al lavoro sia di come si dice soft skills e hard skills. Spieghiamolo anche alle persone che sono a casa perché insomma io e Fabio per esempio non so se lo sappiamo. Ai profani. No ma in realtà intendiamo semplicemente competenze che possono aiutare le persone a crescere da un punto di vista lavorativo mentre dall'altro anche competenze più specifiche specializzate in particolare in ambito tecnologico quindi poter saper programmare un software capire come funzionano i linguaggi di programmazione perché in questo momento soprattutto nella nostra regione c'è sempre di più una necessità incalzante di questo tipo di competenze sia per le aziende che già erano presenti sul territorio ma anche per tante altre aziende che sono venute qui ad aprire delle nuove sedie e sono alla ricerca di talenti e di persone da inserire nel proprio organico. Quindi dicevo che noi ci occupiamo di formazione nel senso che facciamo degli eventi mensili in cui l'ultimo giovedì del mese dedichiamo per esempio proprio ieri c'è stato un incontro su l'arricchimento delle competenze del come parlare in pubblico per esempio che è una di quelle competenze che difficilmente ci viene raccontato a scuola come fare e invece diventa chiave poi per la crescita professionale perché anche soltanto in una riunione di lavoro se non sappiamo utilizzare bene la nostra voce difficilmente potremo progredire nella nostra carriera lavorativa. E essere presi in considerazione. Esatto. Mentre invece poi ci occupiamo anche di formazione come dicevo digitale tecnologica. L'anno scorso quello che avete visto è un estratto del primo bootcamp mai realizzato in Puglia una tre giorni in cui abbiamo insegnato a cento ragazze a programmare in HTML e CSS che sono i linguaggi di programmazione con i quali si sviluppano i siti web. Quindi in un weekend hanno potuto raccogliere un po' di informazioni di base e lavorare con altre ragazze per sviluppare alla fine quelli che sono stati 17 progetti di siti web che sono stati portati a casa in 48 ore. Su quest'onda di devo dire questo grande successo che ha avuto quest'evento l'anno scorso ne stiamo organizzando un altro quest'anno che sarà a fine marzo dedicato all'intelligenza artificiale che è un po' il trend del momento anche da un punto di vista di richiesta sul mondo del lavoro e quindi con lo stesso formato di una tre giorni durante il fine settimana in cui le ragazze possono unirsi in piccoli gruppi e accompagnate da professionisti possono sviluppare dei progetti e iniziare ad apprendere le nozioni di base su come funzionano gli algoritmi di intelligenza artificiale. Fabio? Di intelligenza artificiale si parla tanto, voi che siete più dentro a questo settore, a questo campo è più un'opportunità o piuttosto un pericolo? Allora, come mi piace spesso dire quando mi fanno questa domanda e quando faccio formazione su questa tematica è che l'intelligenza artificiale non ci toglierà il lavoro ma toglierà il lavoro a chi non lo sa utilizzare nel senso che l'intelligenza artificiale sicuramente è una di quelle rivoluzioni tecnologiche un po' come la ruota, nel senso che è come dire quando Henry Ford ha creato le automobili pensare a quelli che dicevano che volevano più cavalli per andare più veloce l'intelligenza artificiale davvero ci dà la possibilità di rendere molto più efficiente il nostro lavoro ma non toglie tutte quelle caratteristiche che sono fortemente umane quindi del pensiero critico, della creatività, della capacità appunto di comunicare e collaborare quella parte lì rimane assolutamente da pannaggio umano e diciamo che probabilmente dobbiamo ritornare a puntare di più su quelle competenze che ci rendono più umani rispetto alle macchine dovremmo saperla usare bene e sfruttarla al meglio esatto come fate diciamo come diffondete imprenditoria all'interno del vostro mondo? sì allora per noi come dicevo il divario di genere occupazionale parte sicuramente da un tema di competenza però c'è anche poi una grande possibilità per le donne di essere loro le prime a fondare delle imprese contate che in Puglia rispetto alle nuove imprese che ci sono state credo che questo dato sia del 2022 e probabilmente sia lo stesso del 2023 comunque una nuova azienda su dieci è fondata a maggioranza femminile quindi diciamo abbiamo grandissimi margini di miglioramento per questo l'anno scorso alla fine dell'anno scorso abbiamo lanciato il primo programma di incubazione si chiama per piccole imprese al femminile quindi con almeno la metà delle persone che fanno parte appunto della compagine sociale quindi diciamo delle persone che fondano la società almeno la metà di genere femminile in modo tale da dare la possibilità a donne che hanno voglia di lanciarsi di avere anche la formazione necessaria per sapere come affrontare il mercato e fra queste abbiamo scelto quattro aziende che adesso stiamo seguendo e finiremo questo percorso alla fine di marzo io a questo punto se siete d'accordo lancerei un rvm stiamo da discutere con la dottoressa sei tu il boss possiamo mai dirti di no? essere mentor in Puglia Woman Lead energia, creazione di valore, impatto nella vita di qualcuno supporto, scambio reciproco, arricchisce anima e ovviamente birra e panzerotti si legge una grande energia negli occhi di chi partecipa al forum ma così come nei tuoi hai mai pensato però siamo nel 2024 c'è ancora bisogno di questo gender gap che non ci sia più? beh purtroppo sì devo dire nel senso che purtroppo le stime dell'Unione Europea rispetto a questo tema scusatemi non dell'Unione Europea dell'ONU è che ci vogliono ancora circa 160 anni almeno per arrivare alla parità di genere in tutti i settori quindi direi che purtroppo è ancora necessario parlarne siamo più avanti con l'intelligenza artificiale decisamente beh direi proprio di sì siamo messi malissimo allora però la cosa che mi preme mi preme dire è che la nostra community è fatta anche in gran parte da da uomini perché il nostro punto è proprio di andare a creare un luogo in cui tutte e tutti possano effettivamente condividere una rete e una crescita personale e professionale contate che più o meno circa una persona su tre che fa parte della nostra community è uomo e proprio perché alla fine poi lo sviluppo del nostro territorio dipende dal colmare di vario di genere infatti poi il divario di genere è fra gli obiettivi di sostenibilità che le Nazioni Unite si sono dati quindi proprio perché lo sviluppo del territorio lo sviluppo economico di un territorio dipende anche dal fatto che tutti quanti possono avere le stesse opportunità Fabio visto che formate competenze per le aziende mi chiedevo se le aziende sono interessate alla vostra attività se investono sui vostri eventi se vi sponsorizzano in qualche modo Sì, per fortuna devo dire che le nostre iniziative hanno veramente raccolto anche un'esigenza delle aziende in questo momento che è quella di formare appunto delle persone da poi inserire nell'organico e quindi come anche avete visto magari nella clip precedente ci sono molte aziende che sono interessate ovviamente a raccogliere sia competenze a formare e raccogliere poi competenze da inserire all'interno degli organici qui in Puglia questa è la cosa che ci interessa di più nel senso che davvero c'è in questo momento un grandissimo divario fra l'offerta di posizioni con alte competenze digitali e tecnologiche e invece la disponibilità di persone che poi siano in grado effettivamente di avere queste competenze e quindi è proprio lì che ci andiamo a inserire con i nostri eventi proprio per attirare le persone verso quelle competenze e dare la possibilità alle aziende di entrarci in contatto e quindi sì assolutamente i nostri eventi spesso sono sponsorizzati da aziende che decidono di fare con noi questo investimento sul territorio L'ultima vostra area di intervento è quella del mentoring come intervenite soprattutto in questo ambito? Allora il mentoring vuol dire semplicemente accompagnamento guida il mentore è quello che già dall'antica Grecia diciamo era colui o colei che guidava nella crescita e la persona che avete visto prima è una persona che addirittura da Milano ha scelto di fare la mentore per le persone all'interno della nostra community perché il programma di mentoring dà la possibilità proprio a persone che hanno bisogno di una guida un orientamento nella propria crescita professionale ma di qualsiasi momento di vita si tratti abbiamo persone che escono dall'università o escono dall'istituto secondario quindi dalla scuola superiore e hanno bisogno di capire che cosa fare fino a persone che hanno 40-45 anni che hanno voglia di cambiare il proprio percorso quindi hanno bisogno magari di un confronto per cui il nostro programma di mentoring mette insieme persone che hanno questa necessità con persone che invece hanno un'esperienza da poter regalare perché in questo caso è veramente un ridare le proprie competenze a chi ne ha bisogno in un programma che per tre mesi accompagna le persone una volta a settimana in questi incontri uno a uno in cui si fa un percorso di 10-12 incontri per aiutare la persona che in questo caso è quella che riceve la guida ad avere le idee più chiare e devo dire che sono nate tantissime storie molto molto interessanti di persone che hanno cambiato lavoro hanno trovato nuovi ambiti in cui lanciarsi ormai siamo alla quinta edizione che partirà ad aprile in questo momento la quarta e hanno partecipato oltre 150 persone a questo programma Qual è il polso della situazione sull'empowerment femminile delle generazioni più giovani? Allora, io anche in particolare spesso mi trovo ad insegnare a fare formazione a ragazze e ragazze che sono magari nella fascia di età dell'adolescenza, della scuola e loro da quel punto di vista rispetto a quello che dicevi tu Andrea a loro non c'è bisogno di spiegare niente rispetto alla disparità di genere nel senso che loro la vivono molto meno della nostra generazione rispetto anche alle altre quindi loro già si sentono da quel punto di vista pari è un ottimo segnale è un ottimo segnale assolutamente mentre invece poi da un punto di vista e questo lo dico sia per i ragazzi che per le ragazze da un punto di vista di credere in se stessi e sapere che cosa vogliono fare quali sono le cose che li appassionano credo che poi gli ultimi anni di pandemia abbiano impattato in una fase di crescita importante per cui vedo tantissime persone di quell'età che spesso non credono molto nelle proprie potenzialità quindi credo che quella sia invece la strada su cui dobbiamo assolutamente aiutarli e dove state facendo un ottimo lavoro speriamo per questo insomma in bocca al lupo ma ci dobbiamo assolutamente rivedere per capire come quale sarà l'andamento perché insomma sono tematiche importanti e soprattutto interessanti siccome noi insomma come Telebari ci occupiamo da quasi 51 anni di quello che accade è giusto insomma che ci rivedremo Andrea nella terza parte che hai vuoi qualche spoiler? ho attinto ancora una volta dalla famiglia di Maria De Filippi e abbiamo un amico di Maria De Filippi un esponente della musica pugliese io però ci tengo a dire una cosa che insomma da martedì 6 febbraio siamo Andrea sarà a Sanremo io e Giuliana saremo in conduzione a Bari diciamo la diretta sarà non da sole ma con tantissimi ospiti voglio sperare è certo con tantissimi ospiti con te da Sanremo che non farei solo Telebari Social Night in collegamento ma buongiorno Bari telegiornale mattina e sera non ne potrete più di me tv sport infatti secondo me cambieranno canale però hai scelto il più simpatico assolutamente insomma e con Fabio faremo questa co-conduzione il venerdì dalle 13 alle 14 amazing Telebari Social Night da Sanremo insomma come sempre al passo con i tempi invece dalla prossima settimana ci tengo a dire che Telebari Social Night sarà alle 21.30 non più alle 21 ma andrà in onda alle 21.30 e come sempre a mezzanotte benissimo siamo prontissimi qualche minuto di pubblicità che ringraziamo tutti gli sponsor assolutamente e soprattutto ringraziamo di essere stata con noi Gaia Costantino grazie mille per l'invito grazie terzo spazio dopo la pubblicità sul 17 17